buongiorno dalla dalla ridente località di non so come si chiama ma siamo vicini alla laguna di iobur sarlon iniziamo subito col momento felicità anche oggi buongiorno adesso partiamo a esplorare questo è il mio autoveicolo vedete che che bestia mettiti di fianco alle ruote vasco da notare da notare che bestie con le ruote autoconfianti vedete che c'è nel mozzo c'è addirittura ragazzi guardate cosa c'è qui i famosi cavalli islandesi tanta roba qua c'è Steffi che le accarezza questa ripresa la dedico a mia figlia Sofia che so che in questo momento morirebbe dalla voglia di toccare i cavallini hai visto Sofia che belli che sono tantissima roba ragazzi sei bistro momento felicità indovinate dove siamo siamo a offn e stiamo per papparci il mitico panino con l'aragosta in un posto diverso perché il classico spacciatore di panini con l'aragosta era chiuso per cui abbiamo ripiegato su una soluzione alternativa e allora a tra poco per le foto del panino e la recensione momento felicità questo è la focaccina con l'aragosta dentro adesso mi appresso all'assaggio alla costina ce n'è sembra buonissimo adesso vi dico vi dico inquadra su di me per favore mazzosta adesso vi dico com'è ragazzi il panino era tantissima roba grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti tanto tantissima roba o no no Grazie a tutti.